ragazzi benvenuti primo video esagerato nel senso che siamo esagerati tutti e due io sono nico io sono ste e questo è il nostro primo video come ripetevo sul canale ste nico insieme con questa nuova avventura death rising case zero death rising 2 quindi il prologo di death rising 2 non so che cosa stiamo andando a fare io clicco e questo è il nostro primo let's play to cazzegger esatto e vediamo cosa ne esce fuori subito siamo stati disconnessi di fare questo aggiornamento inutile famosissimi 3 mega famosissimi 3 mega di zombie si 3 mega di zombie avranno cap da qualcosa tipo si non so un lancio della scarpa si un lancio della scarpa sblocca il nuovo lancio della scarpa effetto insieme alla capcom famosissima per aver fatto set fart ovviamente si non per resident evil che non se ne ha mai inculato nessuno anche e anche la dolby digital molto famosa la famosissima eccolo qua dai drive sim 2 premi start precisamente premiamo start salviamo salviamo sul disco rigido attenzione questo baldo giovane che ci viene subito in contro che il volume magari non sia niente beh comunque le scarpe del signore sono bellissime le calze pandan soprattutto col pinocchietto quindi siamo in questa città dove c'è un classica cittadina americana si milano fashion week versione zone esatto ok avviamo la partita nuova partita vai molto bene premesso è la prima volta che gioco a questa cosa la prima volta che giochiamo quindi ci sono anche gli suggerimenti giustamente se non riesci a trovare dello zombrex ah si il nuovo film il negozio di pendine avrà qualcuno in mente non so cosa sia oggi avrebbe cacciato la grafica per essere questo posto del 60 sembra carina molto bene ci hanno appena detto che ci sono un milione di zombie noi ci andiamo proprio tra noi per una bella macchina insaguinata non l'abbiamo mai giocato la dettagli 1 quindi non so assolutamente da qual è la storia da cosa si parte si magari dei suggerimenti se qualcuno ce li ha conosce che cosa stiamo facendo la macchina l'abbiamo rubata sicuro ma siamo un meccanico biondo tipo sembra l'attore di si e sai cazzo quanto costa poco la benzina eh ma lo zombie fa abbassare ragazzi se voi in italia riuscite a fare benzina così quindi fate un fischio non ha messo un euro un dollaro tirato via ed è uscita la benzina esatto ah ok andiamo a combattere l'aereo quattro ma sopra tutta l'elettricità da dove la prende questo posto se non c'è più nessuno che non c'è più attenzione devo prendere l'antibiotico devo prendere l'anticoncezione anzi lo zombrex ah ecco cos'è lo zombrex vediamo una bambola dolghera da una bambina ecco cos'è lo zombrex era stata morsa vedi che c'era il cerottino quindi lo zombrex non ti fa diventare zombre per legione no daddy no nobody likes shots honey but it's very important that you get this questo è un momento drammatico tu gliela fatti a questa siringa l'altro non hai messo in seguito no tipo una ogni dodici tranquillo ecco ecco sorry sweetie daddy's got a few more con il gioco tu compri il film praticamente esatto sei tempo giochi esatto sei tempo giochi sei tempo giochi odori questo cliché di giochi horror che entri e chiedi se c'è qualcuno esatto ma perchè? cioè non chiederei se c'è nessuno ma se hai aperto la porta qualcuno vedrà se il drago ci pensa papà ci pensa papà ci pensa papà esatto al che sta lì è quella cosa che si andava vanno a spezzare due cosci e arrivo papà eh ci sono dei cani che uvono e dei colpi di mito cazzare il cane di Roger Rabbit col col mitra in mano ecco ah si corrono si corre questo si aspetta che sopravviva se non lo gestisco io e sto subito ancora prima del treno sono venuti a non fare la casa dell'altro perchè l'abbiamo rubata due giorni per stamattina tra l'altro tra l'altro sonova bitch non vuol dire l'armato bastardo ma figlio di puttana però va bene molto bene vediamo che a questo punto ragazzi le traduzioni fatele voi perchè noi ci azzeccano una manza con lo spiocato da dove sono usciti questi? siamo usciti da una porta e c'era il numero uscito esatto ma fa tanti altri se ci provo io mi viene merni inquinale se ho più ma lui ce l'ho più ah ok non ce l'ha più perchè ne ho freddo ok adesso honey non possono uscire posso entrare ma noi non possiamo uscire esatto quindi eh il troppo bere fa ammalare Chuck è un alcolista è un alcolista no già siamo incapaci poi ce l'abbiamo anche alcolizzato il tipo ma soprattutto chi ha affidato la pizza no non lo so Katie Daddy loves you so much but where are you going? prova è grafica carina forse riusciremo a giocare proprio un po' si 7 minuti ma non mi piace anche i Zobrex lo so honey ma è molto importante che hai bisogno di un altro prima di dormire tu stai qui mi prometto che sarò tornare pronto come poter non sei freddo di queste persone non mi permetterò di mantenermi sicuro ok ragazzi se vedete questo video pop cornazzo alla mano coca cola prima si fatevi anche una piadina nel mentre 8 minuti per iniziare c'è un altro caricamento salvare sui festi vi fa guadagnare eccolo allora lo Zobrex è un farmaco che mi vince la transformazione eh l'abbiamo capito la formula dello Zobrex è ancora sperimentale però noi ce la iniettiamo lo stesso e provoco per dosi mortali benissimo innacura la morte il contatore Zobrex è quello che ho scritto a 1 che deve assumere la prossima dose di Zobrex tra le 7 e le 8 altrimenti morirà quindi bisogna controllare l'orologio perché sennò questa diventa un zombie molto bene guardare l'orologio e il castino si lo troverò finiti tu se sei di suonare basta continua basta ah devo vedervi guardare l'orologio esatto ok sono le 7 lo deve prendere alle 8 hai ben un'ora vabbè quindi cosa devo fare? frecceguide no no frecceguide lo stavo guidando ma vabbè ok io sono questo vediamo che cosa c'è da raccattare scatola di chiodi si quindi picchio e lo scattola di chiodi mazza ecco forse è meglio attenzione qui che cosa posso fare? posizione oggettata ah puoi mettere i chiodi ah stile Dead Island esatto ok la sala della detenzione questo ve lo leggete tranquillamente perché io andrò a Muzzo ok quindi combina esatto e un macello guarda che cosa ti combino madonna c'è anche la musica c'è una versione di Backhider Zombat tra l'altro ha tipo caricato uno shock che hanno già fatto quel rumore lì che non era attenzione abbiamo sbloccato l'obiettivo assaggio delle cose che verranno mazza ferrata benissimo perfetto si questo lo leggete poi voi dopo picchiate la gente in maniera cattiva picchiate chiunque schede combo molto bene la selezioniamo perfetto ma se non lo so che cosa dovremmo fare proviamo non posso fare niente questo salta questo niente vede questo insulta la gente mi piace ciao come picchio la gente che non ok posa indumento ma non è vero not bad si fa anche il figo si ciccioneggia ok allora qui abbiamo sega circolare mi piace un'altra sega circolare qualcosa di veramente cattivo dei pneumatici e non giusto bisogno che li devo cambiare una carica di propano è benissimo cos'è? una chiave una chiave grande attenzione scaffale in acciaio ah ok sono Hulk ma perchè no? ma poi soprattutto come ah no così lo lascio attenzione sono diventato un ninja come cambio sono le 7.17 muoviti con questo cambio l'anno ok benissimo anche con questo lì c'è una roba tipo uno spara no è un scusate ah un trappano un trappano trappaniamo oggi vai 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 ma cosa faccio? esci o esci possiamo questo salto salti ma possiamo fare posizione agli oggetti? no e che cosa te ne fai? li piglia il trappano esci fuori qui usciamo qui? si vai attenzione aperto vai salve giovani questo che cos'è? ah whisky perchè io sono un alcoolizzato di quelli poderosissimi esatto no 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 dai non andare in giro con whisky li piglia il trappano attenzione segui la freccia attenzione dov'è la freccia? è sopra è vero freccia attenzione attenzione segui la freccia vediamo ma com'è picchio la gente? scusate giovani io non ti cacchio sono ah senta dovrei fare dell'uccisione giusto per far vedere qui ai nostri amici dove devo andare boh prova provare provare qua ci sarà un'uscita da qualche parte attenzione salvataggio per essere la partita hai bisogno di un bagno giusto quando vai a cagare lì fai tutto si si fai tutto leggi il giornale e poi nel mentre salva ok esamina attenzione altri 25 modifi esatto ah bene tutto sto cazzino esatto abbiamo perso ben minuti per far vedere lui che fa il figo qua ah si sale di livello perchè le armi combo danno punti extra quindi si ma io col trapano e con la sega circolare non ci posso fare che ne so una sega elettrica che trappa nel mentre che perchè? non lo so ok attenzione come va ok ecco voglio trapannare su signora venga senta la vitina qua ce la mettiamo ecco eh subito attenzione attenzione venga venga lei don't wait tra l'altro sono tutti neri questo ah no si ma io corro senso come corro? corre così secondo me corro così non arriviamo mai più la bimba è morta sei giorni fa eh non so eh però eh non so senta ci sono due trapanate venga 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 attacca le spalle il porco di sangue in maniera inecepibile si ma io devo scappare oh sei dentro finiti giovani dove devo andare attenzione alla freccia orribla attenzione un passato nell'EPA poi è passato al calcio attenzione scusi guarda eh eh attenzione attenzione ecco ho la sega elettrica madonna che affettamento ahahahah madonna ho scoperto oh madonna wow ok ok attenzione combo attenzione ho fatto qualcosa di cattivissimo sono troppi io direi che si può andare oh che ieri sera ho guardato in giulica no aia 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 ma adesso ti zombrano anche a me si si però direi che ti comiene correre venga che ti dico due martellate qui nel cranio faccio vedere con 100 pp attenzione venga punti esperienza ovunque devo andare di là si tolga guarda a questo che siete qua soprattutto attenzione attenzione nonno felice dietro nonno felice madonna che quale cattiveria ma tu anche oh ragazzi che io allo stadio davo di brutto oh levati ma sai il volume ragazzi voi nel frattempo chiudete gli occhi perché qui c'è lo squatterume esagerato poi sono bellissimo che faccio? spacco la vetrina ah si sono troppo sono un killer la prendo ma no bellissimo mi voglio così basta mi voglio così senta scusi che faccio paga lei da dietro dire da dietro come disse i ciccioli posa indumento posa indumento che cos'è? shampoo voglio lo shampoo ha sciampato in faccia venga venga che ci tira la sciampata la rovisco il cappello un po' così senta io vado di qua esatto ma posso correre? non c'è il corrimento non lo so prova a schiacciare ah ma così tipo lanci gli oggetti secondo me attenzione e di nuovo caricamento su caricamento e ragazzi ci siamo fatti i capelli esatto siamo nel mezzo di un apocalisse c'è 1400 zombie ma lui si fa i capelli in due secondi metti un bel mi piace per il capello esatto almeno quello sicuro c'è lo zombrex eh scuro ma io voglio sapere se c'è un tasto per correre anche perchè così abbiamo dopo domani eh non lo so l'ambulanza 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 sta a zombrex come cicciolino al porno caso 1 è attivato il caso 2 giusto quindi ragazzi noi salviamo abbiamo visto questo giochino io direi che facciamo un video corto giusto per vedere giusto quei 16 minuti solo di storia praticamente si praticamente abbiamo fatto vedere un film abbiamo commentato spero che due risate ve ne siete fatte anche voi a noi questo gioco forse piace si si carino ci si può ci si può passare qualche oretta dai adesso vediamo comunque ragazzi da Nico da ste un saluto ci vediamo alla prossima se volete con un super gameplay si vediamo che cosa riusciamo a fare io direi che possiamo chiedere una leggenda se vogliamo vedere un let's play continuo di Katzenger 2 case deal ciao a tutti ragazzi alla prossima